Siamo appena rientrati io e l'assessore Campitelli da una visita fatta nella scuola che sta attualmente subendo dei lavori di aggiornamento e di messa in sicurezza e stiamo notando che i lavori stanno andando avanti con rapidità. Questo comporterà di dare il minor disagio agli alunni e soprattutto anche ai familiari e prevediamo quindi che il sacrificio che abbiamo chiesto di affrontare un turno pomeridiano ad alcuni studenti sarà di breve durata e quindi ripeto il tutto porterà dopo questo sacrificio che noi abbiamo richiesto sicuramente ad un ripristino della normale attività scolastica. A seguito del sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco ci siamo immediatamente adoperati tramite l'ufficio tecnico ad effettuare quei lavori necessari e indispensabili per rimettere in sicurezza quelle aule. Siamo appena appunto rientrati anche da un sopralluogo fatto insieme al sindaco per renderci conto anche personalmente che i lavori stanno andando avanti anche in modo celere. Attualmente comprendiamo il disagio per le classi che saranno costrette ad effettuare il turno scolastico in orario pomeridiano però i lavori che stiamo effettuando e anche i test che l'ufficio tecnico ha predisposto dovranno rassicurare tutti quanti per la stabilità e la sicurezza di quelle aule. In questo momento è tutto in fase ancora di valutazione sul da farsi. Grazie.